Ma come si chiama? No Cristian. Ciao Cristian. Dal Babbo Natale in borghese oggi. A Natale mi avete vestito catevi. Ciao a te. Sì, sono andato a salutare il grande Budyspace. Vi saluto pure io. Ciao. Vabbè, vi saluto pure io, me ne vado. Salutiamo Cristian. Un salutone a tutti gli amici di Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, MySpace, Netflix e come diciamo sempre? Badu. Vabbè, Badu è il sito dei coach. Dailymotion. Dailymotion. Poi la manina. Aspetta, la manina non c'è l'occhio. Ok? Facciamo un selfie. Quindi Michi che imita il salutatore del blog. Con il pollice. Poi si mette così se si stiamo a occhiare. imitazione di Michi Giusino. Michi Giusino del grande amico Cristian Paolo. E noi da tanto conoscono, qui ho conosciuto, dal matrimonio di Valeria Marini. Ah, lì l'hai conosciuto. Che è tre anni fa, no? Io l'ho conosciuto a te, io l'abbiamo detto qui.